Il Pubblico Ministero di Pescara a Papalia ha presentato la richiesta di rinvio a giudizio per 103 imputati tra persone fisiche e giuridiche nell'ambito dell'inchiesta sulla FIRA alla finanziaria regionale d'Abruzzo e in particolare sulla gestione dei finanziamenti pubblici erogati dalla finanziaria regionale tra il 2002 e il 2004. Il 27 ottobre del 2006 le indagini della Guardia di Finanza portarono all'arresto di 11 persone tra cui l'ex presidente della FIRA Giancarlo Masciarelli ritenuto a capo di un'organizzazione che avrebbe trasformato la finanziaria regionale in una sorta di azienda privata. Oltre a Masciarelli tra i 103 imputati figurano l'imprenditore della sanità Vincenzo Maria Angelini, l'ex assessore regionale alla sanità Vito Domenici, Barbara Tempesta figlia dell'ex sindaco dell'Aquila oltre ad una trentina di società. Tra i reati contestati l'associazione a delinquere finalizzata alla truffa, falso, malversazione di contributi pubblici e corruzione. Tra gli imputati anche le altre 10 persone arrestate in quell'ottobre del 2006 nell'ambito dell'operazione denominata Bomba, dal nome del paese dove molte delle società create appositamente per usufruire dei fondi d'Ocup avevano sede, alcune addirittura fisicamente non esistevano. Nel corso delle indagini, coordinate da prima dal PM Filippo Guerra, attualmente alla procura di Tivoli, furono sequestrati preventivamente dalle fiamme gialle circa 2 milioni di euro provenienti da un presunto indebito e finanziamento. In totale, secondo gli inquirenti, la realizzazione del disegno criminoso avrebbe fruttato al gruppo un indebito vantaggio patrimoniale stimato in oltre 16 milioni di euro. Da un filone di questa inchiesta presero il via le indagini sulla cartolarizzazione dei debiti della sanità che il 14 luglio del 2008 hanno portato all'arresto dell'ex governatore Ottaviano del Turco oltre che dello stesso Masciarelli.